Rita Bristot, 63 anni, commerciante e uno dei due candidati sindaco a Sospirolo. Con la sua lista Sospirolo Futura, civica ma vicina alla Lega, tenterà la scalata al municipio. Sospirolo è l'unico comune bellunese al voto in cui ci sia un sindaco uscente che si ricandida, ovvero Mario De Bon. Certo, nessun problema per questo. Noi siamo il nuovo che avanza, una donna a Sospirolo sindaco non c'è mai stata. Abbiamo tanta, ci piace tanto il nostro paese, lo amiamo e vogliamo rinnovare qualcosa che secondo me è un po' stagnante. Le idee della lista però non sono portate avanti dal solo candidato sindaco. Al lavoro c'è anche una squadra dei candidati consiglieri. La mia squadra è piena di ragazzi volenterosi che vogliono bene al loro paese e vogliono lavorare perché Sospirolo corra invece che andare troppo piano. I temi da affrontare in campagna elettorale sono sempre molti e solitamente spaziano dalla gestione del territorio alle tematiche sociali. Ma cosa c'è tra le priorità di Sospirolo Futura? Le opere più importanti sono per la sicurezza perché anche Sospirolo non è più quello di una volta. Ci sono stati parecchi furti o tentativi di... abbiamo bisogno di avere più controllo, quindi videosorveglianza e controllo di vicinato. Sospirolo è un comune che conta molte frazioni, anche lontane tra loro. Ci sono idee specifiche per le aree periferiche? Le cose più importanti per noi sono la vicinanza col cittadino. Tanto è vero che noi pensiamo di nominare un rappresentante per ogni frazione che ci dica in tempo reale i problemi della gente, piccoli o grossi che siano, per poter risolvere piano piano e essere a contatto sempre di più con la gente.